circa un anno a mano. Io volevo semplicemente evidenziare un aspetto che è fondamentale. Qui nessuno è caduto in contraddizione, ma perché abbiamo una materia molto complessa, tant'è che ci sono delle interpretazioni diverse da parte della Secretaria Comunale, da parte nostra, e tutta una serie di riflessioni che sono state operate. Qui non è la maggioranza che non è in grado di decidere, perché vi spiego pure che qui non lo vediamo di fatto degli interventi, ma non viene rimosso nessuna contestazione ulteriore. Per cui, stando alla relazione della Secretaria, due motivi di incompatibilità presunta sono stati rimossi. Questa è semplicemente un'espressione di democrazia da parte nostra, di consentirgli, visto che non c'è la competenza, perché si parla di materie correttamente tecniche, di fare tutti gli approfondimenti necessari, in modo tale a parecchio di un'ulteriore relazione della Secretaria Comunale, in modo tale che potete votare scienza e coscienza nel rispetto del consenso cittadino in cui ci troviamo. Quindi qui non è capito qualcuno in contraddizione, ma pensi che c'è qualcuno che non comprende di quello di cui stiamo parlando. Grazie.